good morning juventus stasera giochiamo con il napoli big match alle 9 troverete juventus before con una chicca nuova che ho aggiunto nei contenuti di questa rubrica però l'occasione che mi è capitata leggendo alcune cose e ghiotta e ghiotta for fortù tradotto in italiano 442 una rivista inglese di calcio ha provato calcolando le rose le prestazioni e risultati quali sono attualmente in questo momento i migliori 10 sono di più ma io vi dico la top 10 no avete visto come titolo hit parade i migliori 10 allenatori al mondo in questo momento attenzione perché ci sarà il pathos per scoprire tra questi dieci in quale posizione sarà massimiliano allegri ok siete pronti benissimo al decimo posto ve lo dico subito un allenatore che a me non piace per niente ma che onestamente e oggettivamente ha fatto miracoli da quando è seduto sulla panchina dell'atletico madrid il coccioneros è il ciolo simeone simeone è al decimo posto quindi adesso non restano che nove posizioni per scoprire dove allegri allo al nono posto juan emery che io adoro perché secondo me è un allenatore che se gli danni in mano una squadra per un paio d'anni la porta ai vertici allenatore che capisce di calcio che fa un bel calcio che ha idee che si rinnova non è statico non è sempre nelle stesse posizioni e quindi non ho posto io francamente forse l'avrei anche messo un po più in alto come posizione ma ci stanno i dieci migliori allenatori del mondo quindi adesso restano otto posizioni per vedere dove sarà massimiliano allegri ottavo posto ebbene sì all'ottavo posto un allenatore che moltissimi juventini tantissimi juventini io non mi sono mai esposto in merito non mi dispiace ma non mi sono mai esposto in merito vorrebbero le juventus roberto de zerbi che onestamente va detto lavora divinamente bene ha idee freschissime fa un bel calcio e soprattutto capisce dove sbaglia e capisce dove deve migliorarsi quindi io sono d'accordo che sia nei primi dieci del mondo adesso restano sette posizioni è per il nostro il nostro grandissimo tecnico di livorno al settimo posto un allenatore che quando è arrivato anche il mio amico ludovico non considerava una certezza era felice contento perché un giocatore che lui tifoso juventino ma anche del blado grano ha amato quando giocava nel barça però adesso pian pianino ha preso in mano la situazione e sta facendo vedere buone cose ha silurato chi doveva silurare e sta facendo crescere i virgulti della cantera e sto parlando di xavi che è stato un grandissimo giocatore ma a quanto pare sta dimostrando di essere essendo settimo un grande allenatore quindi adesso i prossimi sei chissà dove sarà chissà dove sarà il nostro acciughina al sesto posto quel ho che sta facendo miraviglie con new castle new castle l'attenzione ha speso un sacco di soldi ma non è che abbia comprato maradona platini zidane baggio del piero totti cioè ma ha dei giocatori anche che non sono di primo livello eppure sta facendo buone cose e in lizza per passare il turno in champions league che sta facendo dei buoni risultati insomma sta facendo crescere una squadra che vuole ritornare ad essere una squadra di primo ordine in inghilterra quindi un sesto posto considerando che stiamo parlando del calcio recente non stiamo parlando della storia del calcio quindi sesto posto però signori top five siamo arrivati alla top five ci sono i cinque allenatori più forti del mondo attenzione attenzione qui si aprono le scommesse chi è che se la sente di scrivere adesso qua sotto prima che io proceda in quale di queste cinque posizioni sarà allegri chi è che se la sente dai 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 buttatevi buttatevi ma non barate non barate quinto posto signori e signori Tuchel e beh sì perché Tuchel tanto mistrattato tanto vituperato dove è andato ha sempre fatto bene quando poi è stato addirittura cacciato se ricorderete dal paris saint germain andò al celsi e vinse la champions league per cui un allenatore che adesso è al bayern sta lavorando bene ha delle idee fresche è una persona seria un grande lavoratore per cui il suo quinto posto non glielo porta via nessuno quattro posti eh mancano quattro posti quarto posto siete pronti se siete inizia con la inizia con la quarto posto tra i migliori allenatori del mondo inizia con la siete agitati allegriani siete agitati siete carichi siete forti ebbene sì al quarto posto arteta dell'arsenal che sta facendo miraviglie è uno veramente che secondo me ha idee di calcio fantastiche potenzialmente arteta potrebbe diventare il nuovo guardiola che sicuramente saranno i primi tre quindi adesso ragazzi il cerchio si stringe il cerchio si stringe ma a proposito se arteta è quarto meritatamente e nei prossimi tre ci dovrebbero essere insomma dei nomi conosciuti ma murigno dov'è ma murigno dov'è ah meno male che non sono l'unico a pensare che murigno è un allenatore morto da tempo ma signori signori rollo di tamburi veniamo alla terza posizione siamo nel podio l'allenatore terzo attualmente migliore al mondo è un italiano si lo sapevate che c'era lo sapevate che c'era è un italiano un italiano vero ma inizia con la a a lui è lui stavo italiano inizia con la non ci freghi più prima si è fregato con arteta adesso non ci freghi più chi è essi è proprio lui ancelotti carlo da reggiolo che ovviamente sta facendo mirabili e corre al madrid oddio c'ha una squadra della madonna però il nostro carletto non scherza dove va va con le squadre forti fa grandi risultati per cui adesso restano i primi due posti solo che a questo punto mi sorge un dubbio ma se nei primi due posti c'è allegri è uno fra club e guardiola e fuori che sono unanimemente riconosciuti come i migliori allenatori da tutti li vorrebbero tutti chi più chi meno li vorrebbero e quindi come si fa vediamo vediamo per 4 for 2 chi è fuori fra club e guardiola o chissà al secondo posto come miglior allenatore del mondo signori e signori jürgen club che continua in perterito ad essere sempre nei top allenatori a livello mondiale secondo me club se la gioca con guardiola per cui più o meno dal primo al secondo però a questo punto o guardiola è stato fatto fuori oppure scandalo raccapiccio vergogna non c'è allegri nei primi dieci allenatori del mondo ma chissà club secondo e al primo posto peppino peppino guardiola peppino guardiola che anche quest'anno si candida a puntare a vincere la champions league la premier league la fk e tutto quello che c'è in giro per il mondo grandissimo peppino che al direttore alcuni eventi non piace pensate un po quanto capiscono di calcio bene signori vediamo abbiamo visto che nei primi dieci allenatori del mondo mancano simone in zaghi mancano stefano pioli manca come cazzo si chiama josé murigno manca maurizio sarri manca manca massimiliano allegri quindi del campionato italiano chi c'è nessuno perché dei zerbi allena in inghilterra ancelotti parola degli italiani ancelotti allena in spagna gli altri sono stranieri sarà mica che abbiamo degli allenatori del cacchio in italia in qualche sospettuccio mi viene fatto sta fatto sta che nei primi dieci allenatori del mondo nonostante la juventus sia seconda nonostante la juventus voglia provare a lottare per lo scudetto o non si sa perché cos'altro non c'è il tecnico della juve e guardate io non conoscevo for for giù prima di ieri ma adesso che questa rivista ha fatto questa classifica dove nei primi 50 c'è allegri ovvio ma c'è anche in zaghi ma c'è anche qualcun altro però nei primi dieci non c'è e secondo me nel calcio moderno sono sempre i primi 5 6 7 8 che contano gli altri più o meno ci equivalgono per cui cari allegriani prendetevela con for for giù ma io la penso come for for giù good morning juventus